Diamo il benvenuto a voi, tutti i clan, per questa che sarà l'ultima adunata. I suoi figli, con la spada, proteggeranno la corona o ciò che ne rimane. Essa è stata spezzata e va riforgiata e così sarà fatto. Domani, all'imbrunire. Però una corona non si forgia senza un pezzo. Vuoi essere così? Squarcialupi l'umano? Alzati e non stare seduto a guardare dentro te stesso. Il nemico è fuori. Il nostro giuramento è che voi guarite per tutto il giorno che ci avete fatto, con il vostro sangue! Per il Falco è caduto! Sanque! Sanque! Non vi chiedo di far parlare a me perché sono il primo figlio di Falcobrando. Vi chiedo di far parlare a me perché vi dimostrerò con i fatti e con la forza che questa sera saprò tenere alto l'onore del clan. noi siamo qua e vi ricordiamo quelle che sono le nostre leggi, quelle che noi non scordiamo mai. che il tuo nome venga ricordato, ma anche che il tuo cammino prosegua. Tanta man di luna di quando Ana del Gupo ha combattuto contro l'ultimo dei satiri, Marto di Neve! Rialzati e combatti ancora una volta! Quali sono le tue ultime parole? Nessuno di voi entrerà nelle aule dei padri! Non mi puoi piegare! Mi devi abbattere! Fallo, diventa uomo! Grazie! 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 Grazie!